Alla fine, sì, gli americani possono fare punti e tanta qualità, ma il pacchetto italiano conta e come. E qui un grandissimo contropiede di Verona. A dimostrare la qualità del giocatore, il gioco a due, adesso, con Ogile. Cambia, Kildo, molto lontano da canestro, due secondi, un secondo, Bosqui, fa saltare Kildo, prova a bruciare, la ventina da Bosqui. Alla fine del primo quarto, ancora la donna che sta grandi, diversi postidi, va la fortitudine in questo video. La donna Giacomo Sgorbati che prende la linea di fondo e va a schiacciare, benvenuto al paladotto Sgorbati. Ancora che si punta in avanti, gran palla, dentro, e va a schiacciare, rimessando. Vole di spedire una rimessa facile, infatti si riesce, corre contro di Johnson da Severini, e la corsa, fino alla schiacciata. Oh, la più bella storia della partita, la vediamo adesso, sono tornilloso nella partita. Un tiro dalla lunga, la sua classe, la sua classe oggi però ha sprazi, ma che cosa abbiamo visto? Inizio di ridi, con ritmi molto alti, adesso Corbett, gioca a due prossimo, schiacciata a fondo, gira intorno alla canale e schiaccia sulla riga di fondo. Due secondi alla fine, Penna in palleggio, cerca di battere vincato, poi lo scarico è ben cortese che batte rasfino, va in penetrazione, Simpson! Dove è andato Travis Simpson? Marini, Marini, Marini realizza lui, e poi dopo guardate, a incitare tutta la curva, tutto il palapiera, Pierpaolo Marini!